Penso che a livello del gioco abbiamo fatto bene, ma quello gol ci ha fatto molto male perché quando abbiamo la partita sotto controllo e non facciamo il secondo gol siamo sempre dietro in difficoltà, quando c'è un'occasione così lui ha giocato bene penso che ha fatto il gol, però quando non chiudiamo le partite è sempre difficile rimanere così soprattutto quando abbiamo avuto il gioco tutta la partita ma dobbiamo lavorare su questo come sempre e provare a vincere la partita di venerdì adesso